Ciao a tutti e bentornati a Pillole di Storia. Bentornati alla nostra serie dedicata all'espansionismo arabo in cui stiamo raccontando come una religione nata all'inizio del VII secolo sia riuscita in punta di spada in pochi decenni ad espandersi per tutta la parte meridionale del Mediterraneo, spingendosi poi verso l'India e cambiando completamente la storia del mondo. Nella scorsa puntata, che come tutte le altre trovate sotto il video in descrizione nella sua playlist, se volete andarla a recuperare, abbiamo iniziato a raccontare la storia di colui che questa religione l'ha creata, cioè Maometto. Abbiamo raccontato della sua illuminazione, di come avrebbe ricevuto da Dio l'incarico proprio di portare la verità, la verità monoteista, la verità di Allah o di Dio, scegliete voi quale nome utilizzare, tanto sempre del Dio di Abramo stiamo parlando. E abbiamo iniziato a raccontare come fosse iniziata a nascere una piccola comunità di fedeli intorno a lui, nella sua città di origine, cioè la Mecca. Ci eravamo arrestati nel momento in cui Maometto, perso l'appoggio di gran parte delle tribù della città, era stato costretto a fuggire, in un evento chiamato Egira, così importante da rappresentare oggi per il mondo musulmano il suo anno zero, cioè il momento da cui parte il calendario musulmano. Bene, in questa puntata ripartiremo proprio da qui. Ripartiremo dall'Egira, ne racconteremo altri aspetti, altri retroscena, che la volta scorsa non ho voluto troppo approfondire per non appesantiare la puntata, ma che come vedremo avranno grossi risvolti nel proseguo della narrazione. Parleremo della sua vita a Medina, parleremo di come quella piccola comunità molto rapidamente iniziò a crescere, diventando una grande comunità di credenti, o come veniva chiamata, come viene chiamata ancora oggi, l'Umma, e come progressivamente Maometto smise di essere solamente un profeta e iniziò ad essere un capo politico, un legislatore e ad un certo punto anche un capo militare, iniziando una serie di scontri contro la città di Lamecca, che come vedremo a volte vedranno vincitore una vincitrice una parte, altre volte vincitrice l'altra. Insomma, di cose da raccontare in questa puntata ce ne sono come sempre tantissime. Prima di iniziare, esattamente come ho fatto la volta scorsa, vi voglio lanciare un avvertimento, quello che stiamo raccontando in queste puntate è più o meno la versione ufficiale islamica della storia di Maometto. Lo dico perché ovviamente tantissimi storici hanno dei dubbi giganteschi che questa sia storia reale, ma di questi aspetti parleremo poi in una puntata apposita. Perché qualcuno potrebbe dire, perché non raccontare direttamente i dubbi degli storici? Perché per poter comprendere quei dubbi è prima necessario capire la storia così come viene raccontata. Quando l'avremo terminata avremo le basi per capire questi dubbi e capire come le cose forse, secondo altri, sarebbero potuti andare. Ad ogni modo, intanto mettetevi comodi, perché vedrete che vera o falsa questa storia è veramente molto interessante da raccontare, lo vedrete. Mettetevi comodi, iscrivetevi al canale se non lo siete già, cliccate sulla campanella per essere aggiornati Ogni volta che esce un nuovo video, sigla e poi iniziamo a raccontare. Come vi dicevo, nella scorsa puntata ci eravamo arrestati al momento in cui Maometto era stato costretto insieme ai suoi seguaci a lasciare la città di La Mecca. Ma perché tutto questo era avvenuto? Beh, è necessario provare ad approfondire un pochettino la questione, anche perché, come vi dicevo, ci sono degli aspetti anche più importanti che portano poi tutta una serie di basi che andremo poi a sviluppare quando parleremo di quella che è l'opinione degli storici a proposito di questa storia. Partiamo col dire che se avete seguito la scorsa puntata avrete notato una differenza fondamentale rispetto a quanto viene scritto nei Vangeli, cioè i miracoli. Bene, credo sia abbastanza evidente che nei Vangeli c'è tutta una parte in cui Gesù compie dei miracoli e in quel modo dimostra, sto molto semplificando, di essere effettivamente figlio di Dio o quantomeno legato alla divinità. Bene, nel Corano tutto questo manca. Non ci sono grossi miracoli fatti da Maometto. Certo, ovviamente, la base del Corano è che Maometto riceva queste informazioni direttamente dall'arcangelo Gabriele, ma non è che ci siano dei miracoli incredibili. E pare addirittura, come si legge in alcune biografie, che la cosa gli venisse imputata anche dagli stessi abitanti di Lamecca, i quali, per cercare di prenderlo in fallo per tutte le problematiche di cui abbiamo già parlato nella scorsa puntata, iniziarono a chiedergli proprio perché non facesse dei miracoli, cosa a cui Maometto rispondeva dicendo che non vi era questa necessità e che Allah, Dio, non voleva che lui lo facesse. In realtà, questo non è esattamente vero in toto, perché un miracolo, raccontato nel Corano e poi approfondito in molte biografie, alcune delle quali antichissime, parliamo già delle biografie dell'VIII secolo, quindi 100-150 anni dopo la morte di Maometto, bene, in uno, un miracolo molto molto noto è l'ascesa al cielo di Maometto, che durante una notte fece un viaggio che lo portò prima a Gerusalemme e poi da Gerusalemme in Paradiso. Si tratta di un viaggio che viene normalmente chiamato Isra, secondo quanto viene raccontato in un momento della sua vita dopo essere diventato un profeta, secondo alcune fonti, durante i suoi primi anni, secondo altre nel 619, quindi due anni prima la cacciata dalla Mecca, Maometto sarebbe stato trasportato, secondo alcuni in forma fisica, secondo altri semplicemente in forma spirituale, dalla città di La Mecca dove viveva fino a Gerusalemme. In realtà l'identificazione di questo viaggio chiamato Isra come un viaggio dalla Mecca a Gerusalemme è successiva, perché nei testi più antichi si parla semplicemente, così come nel Corano, di un luogo molto lontano, dell'ultimo santuario, e ultimo santuario che è stato poi col tempo identificato proprio come Gerusalemme e il luogo dove Maometto sarebbe stato portato è il luogo dove oggi sorge, sarebbe il luogo dove oggi sorge la moschea di Al-Aqsa, che nel nome rimanda proprio a quest'ultimo santuario. Moschea meravigliosa, purtroppo in questo momento non facilmente visitabile, ma veramente uno dei luoghi più incredibili del mondo. Ad ogni modo, questa prima parte del viaggio sarebbe appunto solo stata una parte del tutto, perché Maometto a questo punto avrebbe compiuto un secondo viaggio verso l'alto, che secondo alcune tradizioni sarebbe stato fatto addirittura attraverso una scala, che lo avrebbe portato in Paradiso, al cospetto prima degli altri profeti, gli altri che erano venuti prima di lui nel passato ad annunciare la parola di Dio, quindi Abramo, Gesù e così via, e poi addirittura al cospetto di Dio stesso. Questo viaggio, che viene chiamato Mirai, sarebbe secondo alcuni anche alla base di una delle principali tradizioni, uno dei principali pilastri dell'Islam, cioè la preghiera rituale da farsi per cinque volte al giorno. Ora, in realtà questo punto è un po' dibattuto, perché in effetti il Corano non specifica quante debbano essere le preghiere, o meglio, dice che sia necessario pregare al mattino, al tramonto, o parla di una preghiera notturna, ma non indica queste cinque preghiere. Ma secondo una tradizione, Maometto avrebbe saputo di queste cinque preghiere direttamente da Dio. Anzi, inizialmente Dio gli avrebbe detto che i veri credenti avrebbero dovuto pregare 50 volte, poi Maometto, dopo essersi consultato con gli altri profeti, che probabilmente gli avevano detto che forse 50 era un po' troppo, era tornato da Dio a chiedere che queste preghiere venissero ridotte. Dio gliel'aveva ridotte, Maometto era tornato di nuovo, Dio l'aveva nuovamente ridotte, tutto questo nove volte, fino a che alla fine non si era ridotto a sole, per modo di dire, cinque preghiere. È ovvio che tutto questo rappresenta un miracolo, non c'è niente di reale, ma come vi dicevo prima, è anche possibile che nelle antiche interpretazioni tutto questo non fosse pensato come un vero evento fisico, cioè Maometto realmente portato in una notte fino a Gerusalemme e poi in paradiso, ma semplicemente come un evento spirituale, quasi come una forma di trascendenza, e questo forse in qualche modo elimina tutta la parte miracolosa, pur rimanendo ovviamente legata all'aspetto religioso, dato il contatto con persone, teoricamente morte, e con Dio. Ad ogni modo, come vi dicevo, questo aspetto dei miracoli in questa parte manca, e vedremo anche nella puntata di oggi che anche se molti degli avvenimenti vengono talvolta spiegati nel Corano come un intervento divino, in realtà tutto quello che andremo a raccontare è fisico, e sono scontri, battaglie, che in qualche modo possono essere spiegati anche dal punto di vista reale. C'è poi un altro aspetto interessante del rapporto tra Maometto e la città di Lamecca negli ultimi anni prima di lasciarla. Abbiamo detto come gli ultimi anni fossero stati difficili per Maometto, aveva avuto posizioni interne, molte tribù, molti clan, chiedo scusa, si erano schierati contro di lui, in generale la tribù dei curaisce che governava Lamecca aveva cercato in tutti i modi di mettergli i bastoni tra le ruote, e ad un certo punto molti clan erano addirittura arrivati a limitare i contatti con lo stesso clan di Maometto per cercare in qualche modo di convincerlo ad esistere e a ritrattare la sua versione. C'era poi un altro aspetto che in effetti aveva complicato i suoi ultimi anni, cioè il fatto che se inizialmente era riuscito a raccogliere dei proseliti, progressivamente questa sua capacità di fare proselitismo era quasi completamente scomparsa e non riusciva più ad unire nuove persone al suo gruppo religioso. Tanto che ad un certo punto Maometto aveva anche smesso di cercare di convertire gli abitanti della Lamecca limitandosi a parlare e cercare di convertire quelle persone che ogni anno si recavano alla Lamecca per fare il pellegrinaggio rituale e con cui riusciva a venire a contatto. Di questo periodo fa parte anche un altro racconto presente nel Corano, o meglio accennato nel Corano, perché voi sapete che il Corano molto spesso accenna solamente queste storie e poi sviluppato in alcune sue biografie, cioè quello dei cosiddetti versi o versetti satanici. I versetti satanici, che sono peraltro, hanno dato il nome ad un libro famosissimo di Salman Rushdie, che purtroppo gli è costato parecchi problemi, sono in effetti dei versetti presenti nel Corano che secondo la tradizione sarebbero stati ispirati a Maometto non da Dio, non dall'Arcangelo Gabriele, ma da Satana. Quello che viene raccontato è che ad un certo punto Maometto iniziò a riportare dei versi, come spesso faceva, li riceveva direttamente, li raccontava agli altri fedeli, ma uno di questi versi sembrava indicare che tre divinità femminili del mondo politeista di Lamecca in qualche modo dovessero essere accettati, considerandole come un tramite tra l'uomo e la divinità, cioè Dio, Allah, chiamatelo come volete. Vi sto ovviamente semplificando molto la cosa, ma ovviamente una cosa del genere va in totale contrasto con l'idea che Dio sia uno solo, ed è difficile giustificare un passaggio del genere, e il modo in cui questo è stato giustificato dai musulmani e che appunto si trattasse di un inganno. Non fosse stato l'arcangelo Gabriele a dare queste informazioni, questo versetto, ma appunto il diavolo. Altri lo interpretano invece come una prova, perché ovviamente Maometto si sarebbe accorto poco dopo di questo errore, avrebbe ritrattato tutto ed era un modo per mettere la prova e capire se realmente seguisse quelle che erano state le indicazioni. Alcuni storici, ve lo dico qua perché è interessante come aspetto, anche perché è una cosa di cui si parla da parecchio tempo, hanno interpretato questo passaggio, che non mette Maometto esattamente in buona luce ed è curioso che sia sopravvissuto attraverso i secoli, in realtà come la dimostrazione del fatto che ad un certo punto Maometto avrebbe quasi pensato di venire a patti con quello che era il mondo politeista, cercando di aprire maggiormente la sua dottrina per incamerare più fedeli possibili. Però, come vi dicevo, la cosa è abbastanza dibattuta, ed è possibile che questo suo ritrattare, se è realmente avvenuto, sia stato dovuto al fatto che gli altri fedeli non erano minimamente a favore della cosa. Potrebbe anche raccontare un periodo di scontro all'interno del mondo islamico che stava nascendo proprio tra queste due visioni. Ci sono anche in altri libri sacri episodi del genere. Io vi faccio un esempio paragonabile, secondo me. Se andate negli Atti degli Apostoli, c'è una discussione che porta due apostoli a discutere se sia necessario o meno per poter diventare cristiani essere circoncisi. Ora, la discussione presa così fuori dal mondo sembra una cosa da niente. Perché riportarla? Perché in realtà è la base di quello che è il mondo cristiano oggi. Perché se avesse vinto la necessità di essere circoncisi, voleva dire che il cristianesimo sarebbe rimasto legato al mondo ebraico, una diretta emanazione del mondo ebraico. Se non era più necessario essere circoncisi, voleva dire che si poteva essere cristiani anche senza passare attraverso l'ebraismo. E questo cambiava completamente la storia del cristianesimo. Inutile che vi dica quale delle due versioni abbia vinto. Ad ogni modo, torniamo a Maometto. Nel 620, però, successe qualcosa che cambiò la sua storia. Eravamo nell'anno successivo all'anno più terribile, forse per Maometto, quello in cui aveva perso la prima moglie, che era stata uno dei suoi grandi appoggi economici e politici. Aveva perso l'appoggio dello zio Abutaribe, che era morto, e iniziava a sentirsi abbastanza solo. Bene, quell'anno, erano giunti alla Mecca, provenienti dalla vicina città di Medina, un gruppo di uomini, che erano giunti per un pellegrinaggio. Medina era una piccola cittadina, poco a nord di la Mecca, situata all'interno di un'oasi, chiusa da alcune montagne, vedremo dopo una cartina. Era una città che era prosperata, ovviamente grazie all'acqua dell'oasi, che permetteva alle carovane di potersi fermare, ma era prosperata anche grazie all'immigrazione, perché proprio in quest'oasi erano giunte alcune tribù di religione ebraica che l'avevano fatta crescere, perché se gli arabi si dedicavano principalmente alle carovane e all'allevamento, gli ebrei avevano invece importato l'agricoltura e avevano fatto crescere le osi, fino appunto a trasformarla in una cittadina. Da dove provenivano questi ebrei? Beh, secondo la tradizione, provenivano proprio dalla Terra Santa, dalla Palestina, ed erano giunti dopo la distruzione di Gerusalemme fatta dai Romani. Ad ogni modo, a Medina, progressivamente erano arrivate però anche delle popolazioni arabe, arabe non nomadi, ma stanziali, provenienti dal sud dell'Arabia. In particolare erano arrivate due tribù, che probabilmente avevano lasciato la zona dello Yemen nel momento in cui questa zona era stata conquistata dal regno di Aksum, e quindi dal regno africano, ne abbiamo parlato nella prima puntata di questa serie due puntate fa, ed erano andati proprio ad insediarsi nella zona di Medina. I rapporti tra queste due tribù, che peraltro erano stati per tanti anni in lotta fra di loro, e le tribù ebraiche, fin dall'inizio furono però molto difficili, e tra i due mondi, quello ebraico e quello arabo, iniziarono ad esserci grossi, grossi problemi. Alcuni membri di una delle due tribù arabe avevano iniziato ad attaccare gli insediamenti ebraici, e la risposta di alcuni di questi insediamenti era stato che presto si sarebbero vendicati, grazie all'arrivo del Messia, che, questi erano assolutamente sicuri, presto sarebbe giunto a salvarli e a guidare gli ebrei nella riscossa. La figura del Messia, lo sapete benissimo, è presente da tantissimo tempo nel mondo ebraico, ma perché usciva proprio fuori in quel momento? Beh, in realtà probabilmente in quel momento in vaste zone del Mediterraneo si aspettava un grosso cambiamento, l'apocalisse, la fine del mondo, che qualcosa potesse realmente cambiare. Dopotutto siamo alla fine del VII secolo, inizio dell'VIII, cioè in un periodo in cui il clima si sta facendo più freddo, le guerre sono ormai continue da decenni tra i principali imperi del mondo conosciuto, la peste è arrivata, ha devastato, meno in Arabia, l'abbiamo raccontato, ma comunque in tutte le zone con cui erano venuti a contatto, ha lasciato un sacco di morti e continua ad arrivare ad ondate. Insomma, il minimo che potessero pensare era che stesse arrivando l'apocalisse. Ad ogni modo, quest'idea del Messia che stava per arrivare in qualche modo era entrata nella testa di queste popolazioni arabe e quando alcuni dei loro rappresentanti raggiunsero la Mecca per il pellegrinaggio rituale che abbiamo raccontato nella scorsa puntata, incontrarono Maometto, il quale gli espresse le sue idee, rispresse quello che gli era stato detto dall'Arcangelo Gabriele e in qualche modo li convinse che quel Messia tanto atteso fosse proprio lui. L'anno successivo, nel 621, quei 5-7 uomini che Maometto aveva convertito durante quel primo viaggio tornarono, ma insieme a loro portarono altri 6 o 7 convertiti. Peraltro, se i primi erano solo di una delle due tribù arabe, ora invece i convertiti provenivano da entrambe. Incontrarono ancora Maometto, vennero ancora più convinti delle sue parole e tornarono nuovamente a casa. L'anno dopo, nel 622, questa volta tornarono addirittura in 70 e tra questi 70 c'erano anche due donne. Questa volta, gli abitanti di Medina tornarono però con una proposta. Innanzitutto, proponevano a Maometto di lasciare la Mecca e di spostarsi insieme a tutti gli altri fedeli proprio nella loro oasi, a Medina. Cosa che a Maometto diciamo andava benissimo perché ormai la situazione alla Mecca era completamente esplosiva e prima o poi ci sarebbe giunti a una resa dei conti. L'altra cosa che chiedevano a Maometto era di diventare in qualche modo il legislatore, un legislatore imparziale della loro città che potesse arrivare, dare delle indicazioni e porre fine a questo lungo periodo di scontri tra arabi, all'epoca quasi tutti ancora politeisti, così dice il Corano e gli ebrei. Maometto accettò, come abbiamo detto, perché aveva le sue buone ragioni. Ah, ma non partì subito per Medina, ma parlò prima agli altri suoi compagni, agli altri convertiti e aspettò che tutti loro lasciassero la città per poi partire anche lui. Perché questo? Beh, uno potrebbe dire perché voleva assicurarsi che non ci fossero ritorsioni contro i suoi compagni. In realtà è più probabile e in effetti alcune biografie anche molto antiche sottolineano questo aspetto, che in realtà Maometto non fosse proprio convinto che tutti lo avrebbero seguito. Perché? Non perché non fossero fedeli, non perché non gli credessero, ma perché lasciare la Mecca per trazionalissima Medina voleva dire per queste persone rompere i legami con la propria tribù, con il proprio clan, rompere quel mondo di legami familiari che assicurava loro protezione, assicurava loro un lavoro e assicurava per la visione dell'epoca un vero e proprio posto nel mondo. Cioè non era come dire ok vado a lavorare in un'altra città, no, era proprio un modo per fare un taglio con quello che era stato il loro mondo fino a quel momento e iniziare una nuova vita, qualcosa di decisamente più importante, decisamente più più forte da fare. Ad ogni modo, il fatto che i musulmani fossero iniziati, avessero iniziato a muoversi verso Medina scaglionati, diede tempo ad alcuni alla Mecca come ha diede tempo di pensare a una qualche soluzione per fermarli. Alcuni cercarono di parlare con i loro compagni, con i loro parenti, cercando di convincere a rimanere all'interno delle tribù alla Mecca ma non riuscirono nel loro intento. Altri invece pensarono che potesse essere il momento giusto per uccidere finalmente Maometto. A farlo in particolare fu un uomo chiamato Abu Jal. In realtà è un soprannome che gli è stato dato che più o meno vuol dire padre dell'ignorante. insomma non esattamente il soprannome migliore del mondo il quale ad un certo punto progettò insieme ad altri membri di altre tribù di uccidere Maometto. Per evitare che ci potessero essere delle faide scelse un membro per ogni tribù di modo che la tribù di Maometto che lo scuso dal clan di Maometto non potesse poi andarsi a vendicare. Inizialmente progettarono di attaccarlo di notte prima che potesse partire ma Maometto si fece sostituire nel proprio letto da Ali il proprio nipote ne abbiamo già parlato e ne riparleremo parecchio il quale molto coraggiosamente si mise nel suo letto e alla fine fortunatamente riuscì a salvarsi la vita quando i congiurati lo trovarono ma lo riconobbero. Dopodiché Maometto insieme ad Abu Bakr andò a rifugiarsi in una grotta poco fuori e la Mecca rimase qui alcuni giorni facendosi portare cibo dai servitori di Abu Bakr e solo quando i due furono sicuri che non ci fossero più pericoli uscirono e raggiunsero gli altri musulmani a Medina. Questi musulmani che avevano lasciato la Mecca per rifugiarsi a Medina iniziarono ad essere chiamati i Muajirun un termine che verrà utilizzato proprio per indicare questo primo gruppo di musulmani che per molto tempo nella mente di Maometto probabilmente fu anche il gruppo a lui più fedele. C'era anche una piccola base come dire di giurisprudenza in questa differenza perché i Muajirun avevano promesso non solo di essere rispettosi verso l'Islam e di essere strettamente monoteisti e di ascoltare Maometto così come faranno poi tutti gli altri convertiti a Medina ma avevano anche promesso di lottare a favore dell'Islam seguendo Maometto. Proprio su questa base alcuni hanno posto l'idea che in realtà questi Muajirun non fossero solamente i primi convertiti ma fossero proprio una casta militare forse più vicina a Maometto più elevata che in qualche modo aveva un ruolo più importante all'interno della comunità musulmana non solo sulla base della sua origine ma anche proprio sulla base della sua importanza ricchezza forza militare ma ripeto su questo non c'è particolare concordanza. Ad ogni modo finalmente Maometto riuscì ad arrivare a Medina ed una delle prime cose che fece fu proprio quello che gli era stato richiesto cioè creare un insieme di norme che permettessero la convivenza tra le varie popolazioni dell'Oasi popolazioni che ovviamente ora erano tre perché c'erano sulmani arabi musulmani anche se fin dall'inizio questa differenza inizierà a non essere presa in considerazione perché Maometto indicherà chiaramente che chiunque si fosse convertito all'Islam sarebbe stato considerato parte della comunità anche qualora avesse avuto un'origine ebraica cristiana o quant'altro c'erano poi gli arabi che la cui maggioranza erano appunto politeista e che inizieranno progressivamente a convertirsi all'Islam e poi c'erano invece le tribù ebraiche ad ogni modo questo insieme di leggi se così vogliamo dire di indicazioni viene talvolta in maniera un po' impropria chiamata la Costituzione di Medina perché in maniera impropria? Beh perché non è una Costituzione non è che si sia creato uno Stato Islamico a Medina anzi per come la Costituzione è stata tramandata inizialmente Mahometto non aveva un ruolo ben definito è un motivo per cui alcuni sono portati a pensare che in effetti questa Costituzione possa essere originale o che quantomeno nella forma in cui è arrivata a noi in cui è riportata fino ai testi più antichi non sia stata variata così tanto rispetto a quello che inizialmente erano le indicazioni date da Mahometto perché beh ci sono alcuni punti che lo fanno pensare appunto vi ho detto Mahometto non aveva tutta questa importanza invece nel giro di alcuni anni assumerà un ruolo decisamente più importante viene più volte indicato che le varie comunità in qualche modo devono riuscire a equilibrarsi fra di loro si inizia a parlare per la prima volta di una comunità di musulmani che prende il nome di Ummah tra poco ci torneremo ma a questa comunità di musulmani se ne uniscono altre ad esempio quando si rivolge agli ebrei parla anche in questo caso di Ummah ebraica quindi comunità ebraica si indica chiaramente che appunto le due comunità devono in qualche modo concordare e come vedremo non sarà esattamente così di lì a pochi anni parla di differenze tra i politeisti e i popoli del libro cioè quelle popolazioni che seguono una religione in qualche modo imparentata con l'islam e quindi parliamo dei cristiani e parliamo degli ebrei ed ha appunto delle indicazioni su come risolvere le varie dispute tra questi gruppi questa costituzione di Medina teoricamente che tra volte viene chiamata anche solo scritti di Medina probabilmente è più corretto ma è costituzione il modo in cui è normalmente raccontata teoricamente avrebbe dovuto creare uno stato in perfetto equilibrio nella realtà le cose non è che andassero esattamente così perché ben presto le tribù ebraiche che probabilmente temevano di perdere il loro potere iniziarono ad opporsi ai musulmani i musulmani che peraltro fin dai primi anni iniziarono a crescere molto perché alcuni dei capi arabi di Medina si convertirono e spinsero anche parte della popolazione a fare lo stesso e ogni mese che passava il numero di convertiti aumentava sempre di più se alla Mecca questi erano 100-200 a Medina iniziarono a crescere veramente sempre di più ad ogni modo il fatto che Maometto si fosse trasserito a Medina in realtà agli abitanti della Mecca ai curaisce continuavano un piacere particolarmente perché temevano che man mano che cresceva la forza di Maometto questi potesse pensare di venire a strappare loro la città per questo i curaisce che curiosamente nella costituzione di Medina erano nominati come dei grandi nemici i curaisce iniziarono quindi a cercare di isolare la città cercando di non farvi più passare le carovane cercando di tagliare i viveri di bloccare qualunque forma di commercio e in generale impoverendola Maometto a questo punto siamo arrivati a 624 d.C. decise quindi che l'unica risposta che era necessario dare fosse una risposta militare se i curaisce cercavano di affamare la Medina loro avrebbero attaccato direttamente le carovane e si sarebbero presi quello che a loro serviva i primi tentativi di raid non furono esattamente molto di successo questo perché i musulmani erano pochi innanzitutto Maometto poteva contare solo sui Muajirun e inoltre avevano poche risorse avevano poche armi avevano pochi cammelli tanto che si dice che i primi raid fossero portati con talmente poche bestie che i razziatori dovevano utilizzarne una ogni quattro ovviamente salendo via turno e per il resto facendo i viaggiapiedi insomma la cosa non era esattamente facile aggiungiamoci che gli abitanti di Lamecca presto capirono quello che dovevano fare per difendere loro carovane ed essendo molto più numerosi ebbero vita facile in tal senso il primo vero successo giunse solo nell'ottobre del 624 nella cosiddetta battaglia di Nakla una battaglia che però questo ci raccontano le fonti islamiche e il corano conferma in realtà venne vinta solo con l'inganno perché le forze musulmane non guidate in quel momento da Maometto attaccarono le forze di Lamecca durante un periodo in cui teoricamente per motivazioni religiose non vi potevano essere scontri il sangue non poteva essere versato e in questo modo fecero un bottino che teoricamente non era corretto dal punto di vista religioso per questo a Maometto arrivarono molte critiche e ovviamente i curaisce fecero di tutto per alimentarle Maometto inizialmente ammise che era stato fatto un errore non accettò la sua parte di bottino teoricamente riceveva un quinto di tutti i bottini ma poi se posso dire in maniera molto conveniente annunciò che l'arcangelo Gabriele gli aveva rivelato una nuova parte del Corano in cui si diceva che sì era sbagliato era un errore attaccare nei momenti in cui non era possibile dal punto di vista religioso ma era ancora più grave ancora più un errore il fatto di impedire la crescita e la diffusione dell'Islam insomma loro avevano attaccato i curaisce non nel momento giusto ma i colpevoli erano i curaisce che li stavano affamando e impedivano all'Islam di crescere per riuscire a dimostrare però che le vittorie non arrivavano solo grazie all'inganno Maometto organizzò un attacco decisamente più importante per la primavera successiva nella primavera del 624 d.C. abbiamo raccontato nella scorsa puntata come ogni anno da la Mecca partissero questo raccontano appunto la tradizione islamica partissero delle grandi carovane dirette verso nord verso la Sirio o meglio partisse un'unica grande carovana composta da più gruppi in modo da potersi proteggere il nostro Maometto decise di attaccare proprio questa carovana che era molto grande molto ricca e per farlo raccolse poco più di 300 uomini il primo attacco però fallì colui che guidava la carovana che si chiamava Abu Sufyan ve lo dico perché poi ritornerà nella nostra narrazione infatti venne a sapere quello che stava capitando e decise di far fare alla carovana un altro percorso Maometto non si diede per vinto e sapendo quale sarebbe stato il percorso a ritroso della carovana decise di aspettarla nell'abitato di Badr dove pensava di poter tendere loro una trappola e poter così mettere le mani su tutte le ricchezze che sarebbero tornate indietro dalla Siria Abu Sufyan però ancora una volta lo venne a sapere anche perché probabilmente si era fatto i suoi conti e decise questa volta non solo di far seguire alla carovana un altro percorso lungo la costa ma anche di informare la Mecca dove alcuni capi clan si riunirono e decisero che bisognava rispondere a Maometto colui che guiderà quella spedizione sarà Abu Jal che abbiamo già detto colui che aveva tentato già in passato di uccidere Maometto il quale prenderà con sé un migliaio di uomini e si recherà verso Badr per cercare di attaccare le forze musulmane Maometto però questa volta lo verrà a sapere lui e per costringere gli abitanti di La Mecca a combattere una situazione di inferiorità farà chiudere quasi tutti i pozzi della città semplicemente buttandoli dentro della terra delle pietre così che gli arabi della Mecca non avessero modo di potersi dissetare tenne un unico pozzo ovviamente vicino alle sue forze per poter dissetare i suoi uomini e aspettò quando le forze di La Mecca arrivarono la disparità numerica era grande mille da una parte 300 dall'altra e probabilmente pensavano di poter semplicemente convincere Maometto e i suoi compagni a ritirarsi senza che vi fosse particolari scontri in realtà la cosa era desiderata da molti anche perché non dimentichiamoci che tra quei 300 vi erano anche tanti abitanti della Mecca e tra coloro che erano venuti a combatterli c'erano dei parenti quando però Maometto e i suoi misero in chiaro che loro non si sarebbero ritirati e questo per Maometto fu molto importante perché se sui suoi primi fedeli poteva contare su quello che avrebbero fatto i fedeli di Medina qualche dubbio c'era e invece confermarono la loro fedeltà a questo punto Abu Jal diede ordine di lanciare l'attacco di mille arabi provenienti dalla Mecca attaccarono però solo 700 300 decisero di ritirarsi proprio per non scontrarsi con i loro parenti inizialmente lo scontro fu semplicemente uno sconto tra campioni tre campioni dal lato musulmano e tre campioni dal lato di la Mecca si affrontarono fra di loro e a prevalere furono ovviamente i musulmani che riuscirono a eliminare i tre campioni avversari al prezzo della vita di solo uno di loro il quale peraltro morì di fronte a Maometto che lo dichiarò come martire dell'Islam dopodiché si accese lo scontro ma se i musulmani erano minori dal punto di vista numerico erano anche molto più decisi molto più addestrati nell'arte della guerra dall'altra parte molti erano mercanti non erano così abili con le armi e molto rapidamente le forze di Maometto riuscirono ad avere la meglio Abujal ad un certo punto venne abbattuto e la sua caduta da cavallo sancì la fine della battaglia con il resto delle truppe che si diedero alla fuga Maometto diede ordine di catturare quanti più possibili quante più persone possibili Abujal venne raggiunto da uno dei suoi fedeli riconosciuto e venne ucciso la sua testa venne tagliata portata di fronte a Maometto che non esitò ovviamente ad esultare per la sua morte ma altri invece vennero catturati vivi e portati da lui che cosa fare di questi prigionieri beh secondo Abu Bakr colui che l'avrebbe un giorno sostituito sarebbe stato necessario ucciderli tutti ma Maometto e molti altri erano di un'altra idea avevano tra le mani una grande ricchezza molto più forse di quella che avrebbero potuto catturare con la carovana perché se avessero preso quei prigionieri e avessero obbligato la loro famiglia a pagare un riscatto questo avrebbe potuto fare ricca la città di Medina ovviamente a vincere fu quest'ultima versione Maometto in realtà fece eliminare alcuni dei prigionieri coloro che maggiormente si erano opposti a lui quando si trovava alla Mecca e gli altri li fece riscattare ottenendo così grandi ricchezze tornato a Medina questa sua vittoria ovviamente gli diede un ruolo importantissimo un ruolo importantissimo dal punto di vista politico dal punto di vista morale e anche dal punto di vista religioso perché quello che fece Maometto fu di dire che se i suoi uomini avevano vinto in così grande inferiorità numerica questo si doveva al favore di Dio al favore di Allah che era intervenuto a loro vantaggio e aveva guidato la loro mano in questo periodo Maometto inizia ad entrare in scontro anche con le popolazioni ebraiche con le tribù ebraiche vi dicevo che tra le varie tribù tre erano le principali bene queste tribù che non avevano accettato pienamente questa costituzione di Medina avevano iniziato a intrigare contro Maometto il quale proprio in questo periodo secondo la tradizione islamica avrebbe posto fine a qualunque tentativo di accordo pensate che così viene raccontato fino a quel momento i musulmani esattamente come per gli ebrei avevano sempre pregato in direzione di Gerusalemme considerata città santa mentre dopo i 625 iniziarono a pregare in direzione di Lamecca come vedremo quando parleremo dei dubbi degli storici questo pare essere completamente falso perché ve lo anticipo sono delle cose in cui ci sarà maggiormente da discutere gli arabi in realtà ancora per molti anni anche dopo quando entrarono in contatto con il mondo romano e quindi abbiamo delle fonti esterne che ce lo raccontano continuarono probabilmente a pregare verso Gerusalemme ma di questo ripeto ne parleremo poi nella puntata in cui rivedremo tutto questo alla luce dei dubbi degli storici ad ogni modo approfittando di questa vittoria Maometto non solo aumentò il numero di convertiti ma si disfece costringendoli ad andarsene di una delle tre tribù delle tre la più ricca quella che si occupava pare secondo la tradizione fossero dei grandi orafi in questo modo incamerandone anche le proprietà intanto però alla Mecca non avevano rinunciato alla loro idea di attaccare Maometto anzi la situazione si era fatta anche più difficile perché la sconfitta nella battaglia di Badre aveva tolto una parte del potere dei Kuraish che contavano anche sulla loro forza militare per mantenere il controllo della città e sulle rotte carovaniere e che quindi avevano bisogno di riaffermare quella loro forza per riprendere la loro posizione stabile per questo nella primavera inizio della primavera del 625 l'anno successivo venne organizzata una spedizione una spedizione organizzata dal nuovo leader dei Kuraish cioè Abu Suyaf quello che abbiamo detto guidava la carovana il quale mise in piedi un esercito di circa 3000 uomini che si diresse verso Medina per scacciarvi Maometto quando Maometto venne a sapere di quello che stava succedendo tenne un consiglio insieme agli altri dei capi della comunità musulmana e in generale dei capi di Medina chiedendo che cosa si potesse fare qualcuno propose di aspettare in città la città ve l'ho detto era chiusa su tre lati da montagne e da foreste e sarebbe stato abbastanza facile difenderla contro un contingente del genere qualcun altro invece disse che bisognava uscire bisognava affrontare in campo aperto gli avversari come è successo a Badre e anche se i rapporti di forza erano molto diversi la vittoria avrebbe ancora una volta arriso ai musulmani e Maometto decise di seguire questa seconda idea la battaglia combattuta nel marzo del 625 dopo Cristo viene conosciuta come la battaglia di Uhud i rapporti di forza tra i due eserciti ve lo detti erano molto diversi da una parte c'erano circa 3.000 uomini provenienti dalla Mecca questa volta scelti tra i guerrieri molto motivati molto pronti al combattimento dall'altra parte c'erano invece circa 1.000 musulmani che quando la battaglia iniziò si ridussero poi solo a 700 perché una parte circa 300 disertarono tra coloro che avrebbero voluto invece difendere la città il piano di Mahometto in realtà prevedeva comunque di imbottigliare gli avversari più numerosi in uno spazio ristretto come vedete dalla cartina il campo di battaglia era chiuso su due lati più o meno da montagne in modo da impedire che le forze di Mahometto potessero essere in qualche modo aggirate e Mahometto contava che solo lo spazio di fronte a lui potesse essere usato dagli avversari dato che però c'era teoricamente uno spazio aperto aveva fatto posizionare una cinquantina di arcieri su una collina che dominava il campo di battaglia i quali avrebbero dovuto impedire qualunque manovra di aggiramento e far tenere la battaglia nella posizione da lui prevista inizialmente le cose andarono così inizialmente le forze di Lamecca si lanciarono nello spazio ristretto gli arcieri la cavalleria di Mahometto iniziarono a colpire le forze di Lamecca provocando molti morti respingendoli indietro e ad un certo punto Mahometto addirittura ebbe la forza per lanciare un vero e proprio contrattacco sperando in questo modo di spezzare lo schieramento avversario e costringerlo a fuggire il suo ordine era stato preciso avrebbero attaccato le truppe che si trovavano in pianura ma i cinquanta arcieri sulla collina sarebbero dovuti rimanere dove stavano purtroppo per lui le cose andarono di versamento almeno così viene raccontato una parte degli arcieri decisero di lasciare la collina di scendere anche loro a combattere per aiutare i compagni e qualcuno nello schieramento di Lamecca lo notò questo qualcuno si chiamava Khalid Ibn Al-Walid e sarà molto conosciuto ne parleremo molto durante questa serie era un cugino di Abu Jal aveva partecipato a questa battaglia perché molti dei suoi parenti erano morti o erano stati catturati nella battaglia precedente e pare che già fosse conosciuto per essere un ottimo comandante fu proprio lui a notare la manovra degli arcieri e invece di lanciarsi contro le forze di Momento in via diretta decise di raccogliere una forza di cavalleria a girare la collina a questo punto non più adeguatamente difesa dopo averne eliminato gli arcieri e prendere alle spalle le forze di Momento fu ovviamente un disastro le forze musulmane inferiori in numero e a questo punto aggirate vennero sconfitte e ebbero delle perdite gigantesche ovviamente per i numeri della battaglia di cui stiamo parlando si parla comunque di un centinaio di morti Momento fu costretto a ritirarsi avrebbe potuto essere forse la fine della sua storia se le forze di Rameca avessero insistito nell'attacco ma alla fine sorse una disputa alcuni volevano parlamentare altri erano convinti che comunque ormai Momento fosse finito altri volevano cercare di trovare degli accordi interni al mondo musulmano perché non dimentichiamocelo ancora una volta si stavano spesso scontrando tra parenti alla fine questo in qualche modo salvò Momento il quale rientrò in città ovviamente molto 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 scornato ma in qualche modo riuscì comunque a trasformare questa sconfitta in una mezza vittoria come? beh ancora una volta grazie a dei versetti del Corano giunti esattamente al momento giusto versetti che non solo dicevano che quello che era avvenuto era stato causato dagli arcieri che avevano lasciato la loro posizione ma che aveva anche detto che questa sconfitta in realtà era stata mandata ancora una volta da Dio per mettere alla prova i veri credenti come dire se veramente credete in me dovete accettare anche una sconfitta è un pensiero che nella storia delle religioni vediamo più volte perché ovviamente quando si vince è facile dire Dio mi aiuta quando si perde bisogna trovare una giustificazione sul perché questa volta l'aiuto di Dio non sia arrivato a me fa venire in mente la famosa frase di Filippo II che è re di Spagna che quando venne a sapere che l'invincibile armada era stata annientata disse ringrazio Dio perché non perché mi ha fatto non piango perché Dio non mi ha fatto ottenere la vittoria ma lo ringrazio perché mi dà le ricchezze per poter creare una nuova flotta è un modo un po' arzigogolato di giustificare il tutto ma a quanto pare anche Maometto lo conosceva benissimo al netto di come riuscisse a venderla però il problema rimaneva la sconfitta era stata pesante aveva fatto terminare l'invincibilità dei musulmani e aveva sicuramente messo a rischio lo stesso controllo di Medina fortunatamente come vi dicevo le truppe di Lamecca non avanzarono direttamente verso la città ma nei due anni successivi cercarono in tutti i modi di creare una vera e propria coalizione di tribù in parte arabe in parte beduini in parte ebree quelle tribù che erano state cacciate proprio da Medina per cercare di contrastare le forze di Maometto il quale nella parte opposta cercò ovviamente di rompere questa confederazione che si stava venendo a creare e come andò a finire? andò a finire che circa due anni più tardi le forze della confederazione si presentarono di fronte a Medina il loro numero era molto superiore rispetto a quelle musulmane si parla di circa 10.000 uomini contro 3.000 e la battaglia si annunciava essere molto molto accesa le forze di Maometto però avevano dalla loro una piccola arma segreta un'arma segreta che era giunta si racconta da lontano dalle terre di Persia grazie ad un convertito chiamato normalmente Salman il Persiano il quale aveva portato con sé una particolare tecnica di combattimento che in Arabia strano a dirsi perché era molto semplice nessuno aveva mai utilizzato e che permetterà di riequilibrare un po' le forze in campo ma come andrà questa battaglia lo vedremo nella prossima puntata che ci sarà venerdì prossimo anche perché questa è già stata abbastanza lunga e non vorrei mettere troppi argomenti insieme perché poi il rischio è di perdere un po' il contatto con la storia ad ogni modo prima di chiudere come sempre io vi ricordo importantissimo che quello che stiamo raccontando in queste puntate è la versione tra virgolette canonica della storia di Maometto molti storici hanno dei dubbi a riguardo ma tutti questi dubbi li condenseremo in un'unica puntata quando tutta questa storia sarà finita avrete notato che stanno un po' lievitando le puntate rispetto al mio progetto ma come sempre trovo sempre materiale mi piace metterlo dentro mi piace raccontare con calma noi per ora però ci fermiamo qui spero di essere stato chiaro come sempre ho cercato di selezionare un po' gli eventi principali tagliandone un po' di secondarie perché altrimenti saremo andati troppo per le lunghe anche perché ripeto per l'ennesima volta non sappiamo se tutto questo è successo veramente ma ne parleremo poi nella puntata apposita prima di chiudere come sempre fatevi ringraziare abbonati Patreon e chi fa donazioni sul conto PayPal perché anche grazie al loro sostegno questo canale riesce ad andare avanti e riusciamo a produrre nuovo materiale a disposizione di tutti in particolare oggi vorrei ringraziare Flavio Boano che peraltro ha fatto la donazione qui su direttamente su YouTube che ringrazio veramente tantissimo per il resto come sempre vi ricordo di essere curiosi perché la storia del mondo là fuori è piena di avvenimenti e storie fantastiche storie incredibili che nessuno scrittore nessun regista avrà mai la fantasia di mettere nelle loro opere e se volete curiosare tra qualcuna di queste storie qui a fianco c'è l'elenco delle pillole uscite fino adesso noi ci vediamo presto con una nuova pillola di storia e per andare avanti con la storia degli arabi ci vediamo invece venerdì prossimo a presto ciao ciao